Pure in questi momenti ovviamente complicati, in questi momenti anche faticosi, credo fisicamente, insomma, accettato di scambiare qualche parola con noi, insomma, è tornato laddove aveva lavorato. Sì, siamo molto grati all'amministrazione comunale, a coloro che hanno desiderato di dare questo tributo a mio padre e penso che ne sarebbe stato felicissimo, questo è il luogo in cui lui è probabilmente stato l'ultimo sindaco a lavorare proprio in questo studio. Io e mio fratello ce lo ricordiamo molto bene, poi nel 2004 la sala è stata aperta al pubblico ed è un tributo che secondo noi ripaga un po' il senso civico e l'amore della città che lui ha dimostrato nei suoi anni in cui è stato sindaco di Genova. Vogliamo anche ringraziare perché siamo io e mio fratello sommersi da un'ondata d'affetto che non ce l'immaginavamo, certamente per noi il nostro padre chiaramente ha avuto un ruolo importantissimo però è stato molto amato e questa cosa qua ci commuove moltissimo. Lei prima diceva che è stata una cosa abbastanza rapida in qualche modo? Sì, è stata una cosa rapida dove papà ha scelto di essere in casa, stare in casa insieme alla sua famiglia e come dire ha portato con perseveranza fin quanto possibile avanti le cure e purtroppo tutto si è svolto molto rapidamente e questa cosa qua chiaramente ci lascia affranti però è un uomo che ha avuto, ci rendiamo conto, adesso una vita piena, ricca di soddisfazioni e sapere che ha significato così tanto per molte persone si sta, come dire, riempendo questo vuoto in qualche modo anche se è difficile poi da dire effettivamente. Mi scusi se vado un po' alla sfera personale perché il pericolo abbiamo, suo padre l'abbiamo conosciuto ovviamente da politico, l'abbiamo conosciuto da sindaco, io ho avuto il piacere di intervistarlo moltissime volte, decine e decine di volte ma le volevo chiedere che padre era Giuseppe Perino? Ah beh, nel senso, beh è una cosa pazzesca che ho scoperto adesso, noi siamo una famiglia piccola, due figli, mia mamma è morta da tanti anni, è stato un papà presente, sempre equilibrato, sempre disponibile ma ho scoperto che aveva tanti altri figli di persone che lo ritenevano una sorta di padre, di mentore, di consigli che lui andava a dire e questa cosa qua è proprio, è sempre stata una sua dote di dar sicurezza, spalle larghe e di dare molto equilibrio nelle valutazioni che faceva ed è la cosa, lui non ha smesso mai neanche di lavorare perché in realtà ha questo suo ruolo anche in attività di volontariato, di arbitro, di capacità di dar consigli, di sistemare, di calmare gli animi, di sistemare le questioni, è stata diciamo una dote che ha portato avanti forse fino all'ultimo giorno. Portava il suo lavoro in casa, oppure riusciva in qualche modo a tracciare un limite diciamo tra quella che era la sua figura pubblica, nel senso voi sapevate i problemi che affrontava? Sì, mio padre, e per mio padre che ha vissuto, voi sapete bene, G8, tutte queste situazioni e anche questioni molto problematiche per la città, non ha mai, è sempre stato molto sereno e non ha mai manifestato di avere dei problemi, è sempre stato un uomo molto, da questo punto, molto equilibrato. La cosa è certamente, e che noi ricordiamo, la vicenda di Genova negli anni tra il 1997 e il 2007 ha coinvolto tutta la nostra famiglia in modo molto importante, perché l'essere sindaco è un'avventura che proprio, come dire, ti coinvolge pienamente, anche tutta la famiglia è stata coinvolta in questa ricordiamo, a parte il G8, c'è stato il 2004, la trasformazione della città, tutta una serie, l'inizio della riforma della macchina amministrativa, ci sono state tante vicende di cui noi si è sempre parlato in casa, si è dibattuto, gli piaceva confrontarsi, gli piaceva coinvolgere le persone sui principi e sui valori, che questo è sempre stato il livello a cui lui poneva le questioni. Prima mi hai detto che lei con suo fratello questa stanza la conosceva perché la veniva a trovare, insieme, in che modo diciamo così? Nel senso, ma diverse volte un po' ci portava, perché questa stanza è effettivamente un museo, dalla medaglia al valore della città di Genova, alla lettera di Colombo, ci ha sempre portato a vedere i tesori di questa città che lui amava profondamente e siamo venuti poco fa con Marco Bucci, mio fratello ricordava che ci aveva raccontato questo aneddoto di un presidente di una delle società di calcio che era venuto a trovarlo appena insediato a Genova in quegli anni e mio padre gli mostrava tutte le meraviglie della storia racchiusa in questo luogo e questo signore gli ha risposto il mio studio è più bello, il mio ufficio è più bello. Si può dire, adesso è caduta in prescrizione. Sì, non c'è più, adesso non è più presidente della società. No, vabbè, adesso non volevo creare degli imbarassi poi qua in questa città. Parlando di calcio. Parlando di calcio. Si rischia di andare. La ringrazio e le chiedo un'ultima cosa. Qual è il ricordo che riesce a estrapolare di suo padre nel suo rapporto con lui? Difficile. O comunque in generale? Difficilissimo. A me gli ultimi giorni qua con mio padre, insomma, sono in questo momento impressi nella mia memoria. Una domanda molto difficile, no? Molto personale. Ci ha lasciato un ricordo di serenità anche negli ultimi giorni e quindi per me questa adesso, questa esperienza di questi ultimi mesi di malattia sono stati, come dire, un momento molto, come si dice, un'altalena emotiva molto importante.